SIGLA Solo per avvisarti, mi sono inserita nella vostra rete di focus. Bene. Gli altri Zenith non possono sentirci, vero? Certo che no. E non sanno nemmeno della vostra base, se vuoi saperlo. Gli ho mandato i dati sulla cella d'energia degli Horus da usare contro Regalla. Contattami appena sei pronta di acquisirmi un'altra. Ok, Payton. I dati per l'override saranno in un altro cabberone. Grazie per l'override saranno in un'altra parte. Una volta dentro, non potrò uscire. Queste sporgenze dovrebbero reggermi. Queste sporgenze dovrebbero reggermi. Queste sporgenze dovrebbero reggare le tue spi. Sulla di un po' 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 di uno. scendiamo questo cavo sembra robusto comincio a pentirmi di essere qui si ricomincia non serve a niente 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 grazie Meta! Altre macchine! Perfetto! Devo scelterare questo scudo! Pecca! Spostano tutto verso l'altra estremità del corpo. Deve essere il muro. Perfetto! 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 Grazie a tutti. 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 Forse posso raggiungere quel braccio. Forse posso raggiungerli. Forse posso farmi dare un passaggio da uno di quei macchine a me. Per ora tutto bene. Per ora tutto bene. Quei bracci mi porteranno verso il murio. Forse posso raggiungerli. Aspettiamo il momento giusto. Ci sono. Ci sono. Due macchinari mi porteranno verso il murio. E adesso... E adesso... E adesso è un roveride per macchine. Forse... Ehm... 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 Dovrò combattere per ottenere gli overrider. E ora il colpo di graffi! Arrivano i rinforzi! 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 Arrivano i rinforzi!